Verdetto ribaltato, la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila con la sentenza pronunciata nel tardo pomeriggio di ieri ha affermato che ci sono delle responsabilità ben precise se a busti sul tirino nel corso degli anni si è venuta a creare la cosiddetta discarica dei veleni. Avvelenamento colposo e disastro colposo aggravato e quanto accertato dal collegio giudicante preseduto dal giudice Luigi Catelli, sentenza rovesciata a distanza di due anni dalla prima pronuncia della Corte d'Assise di Chieti, la sintesi del lungo articolato dispositivo letto dal Presidente della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila Luigi Catelli è che l'avvelenamento aggravato è stato riconosciuto ma prescritto. Al contrario, avendo rilevato le aggravanti per il disastro colposo, è stata annullata la prescrizione per questo capo di imputazione consentendo così la condanna di 10 dei 19 imputati, per lo più vertici, manager e consulenti di Montedison. Sono stati condannati a tre anni di reclusione Maurilio Agugia, Carlo Cogliati, Leonardo Capogrosso e Salvatore Boncoraglio. Alla pena di due anni Nicola Sabatini, Domenico Alleva, Nazareno Santini, Luigi Guarracino, Carlo Vassallo e Giancarlo Morelli. Come ha stabilito la stessa Corte, tutte le pene tuttavia sono state condonate poiché relative a fatti antecedenti a maggio 2006, quindi coperte da indulto. Assolto Guido Angiolini, amministratore di Montedison dal 2001 al 2003, inammissibile l'impugnazione per Maurizio Piazzardi, estraneo ai fatti. Assolti anche Camillo Di Paolo, Giuseppe Quaglia, Luigi Furlani, Alessandro Masotti, Bruno Parodi e Mauro Molinari. Un ultimo imputato, Vincenzo Santamato, è morto di recente ed il procedimento a suo carico è stato dunque estinto. In primo grado invece i 19 imputati erano stati tutti assolti. La sentenza ha aperto anche il fronte dei risarcimento che i condannati dovranno riconoscere alle parti civili per un totale di 3,7 milioni di euro, suddivisi in 2,7 milioni di provvisionali e 592 mila euro che, con gli oneri, arriveranno a un milione di spese legali. In tal modo la sentenza ha stabilito il principio del risarcimento d'anno, che viene per ora coperto solo parzialmente dalle provvisionali. Il conto successivo sarà fatto in sede civile. Il collegio giudicante depositerà tra 90 giorni le motivazioni della sentenza. Il prossimo mese di maggio, dunque, le difese potranno vagliare la molto probabile ipotesi del ricorso in Cassazione. Hanno già riconosciuto delle provvisionali, ma soprattutto riconoscono il diritto al risarcimento del danno che quindi potremo attivare sulla base di questa sentenza con una base importante. Un ringraziamento a tutti i nostri associati, a tutte le nostre forze vive e a voi le stampa che avete tenuto accesi riflettori e questo per la nostra democrazia anche in termini di civiltà e di cultura giuridica è importante.